Queen Car promuove l'operazione quattro ruote per quattro zampe la concessionaria di Torino Pianezza e Carmagnola contribuisce alla produzione televisiva di video adozioni quattro zampe in tv la trasmissione che da nove anni presenta i cani in adozione dai canili del Piemonte Queen Car, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia che hanno diritto ad un futuro migliore Grazie di cuore Queen Car Chiudere i canili per mancanza di cani randaggi maltrattati dal sud è una cosa impossibile dunque siamo qui al BAU, Zaira ciao bentornata Ciao benvenuti Giovanna è la nostra storia continua Sempre, sempre qui, ciao a tutti Abbiamo deciso di aprire al sanitario perché il BAU ha diverse new entry che devono sostare per una settimana o d'oltre Una settimana durante la quale vengono fatti i controlli veterinari e poi li spostiamo e li mettiamo lungo i corridoi dove ci sono i box un po' più grandi, più confortevoli Zaira un'occhiata alla scorsa trasmissione, metà dei cani presentati hanno trovato casa quindi un ringraziamento di cuore a chi ha varcato quel cancello là e oggi si trova i nostri amici in casa Erano? Iago Il cucciolo nel nero poi? Poi Axel, il cucciolo un pochino più piccolo, nero e bianco con la stella bianca poi andate a casa Yuma scusa Puma e Ricky Bene, grazie, tutti neri, dice Giovanna Giovanna, la copertina Ma il meno snellisce Questa senza dubbio La copertina è il sanitario New entry, una presentazione diciamo approssimativa Le approfondiremo se rimarranno, se non verranno adottati Dalla Sicilia Lara, Lara che ha mi sembra un paio d'anni Lara, più o meno è una peperina, cioè peperina insomma ci hanno detto che è abbastanza energica adesso poi lo scopriremo in questi giorni comunque è affettuosissima, l'abbiamo già visto Sì, è un anno a marzo Lara, esattamente un anno a marzo è giovane, giovane sì Il setter pelle e ossa perché arriva da un canile che noi conosciamo, dalla Sardegna lo vedrete ingrassato o comunque potete conoscere lui? Bellissimo, si chiama Scott, è nato a maggio del 2021 perciò anche lui non ha neanche un anno è meraviglioso, sai che io ho un debole per i cani da caccia che anche se non vado a caccia però sono bellissimi Gran bella fortuna comunque per lui essere qui al BAU Sì, questo è sicuro E qui rimaniamo senza parole I nani, i nanetti, erano quattro cuccioli tre, insomma, sono tre uno era già adottato da prima della partenza Mimosa, Ulisse e Varen tutti nomi molto importanti sono di pastore perciò vengono grandi, non vengono piccolini sono dei batufolini hanno tre mesi e mezzo, quattro perciò anche lì come ho detto prima tutto da inventare, da educare, da seguire Bene, adesso passiamo ad Erika che è nel box perché Erika nella nostra trasmissione traduce il comportamento ce li spiega a modo suo con le parole o senza mi piace tantissimo il suo modo di viverli in questi 10-30 secondi Ivano dice Ivano, Ivano il prossimo mese fa un anno ed è un, come vedete, anche lui un segugio che sta, non ce la fa stare dentro questo box ed è solamente qualche giorno logicamente non stanno sempre dentro il box perché qui hanno la libertà di correre un po' però certamente non è il giardino speriamo di farlo andare a casa presto e poi un box in cui non riusciamo a riprendere l'ospite questi sono i primi giorni arriva, si abituerà, si adatterà qualche cosa farete e noi riprendiamo un box vuoto vuoto Yuma è nascosta dentro la cuccia però è una cagnina dolcina rispettiamo la sua privacy oggi e lasciamola tranquilla adesso deve prendere, come dire capire che qui vediamo un tartufo si c'è il nasino che spunta è un amore di cane, veramente però appunto diamole il suo tempo non vogliamo neanche forzarla tanto appena noi ci allontaniamo lei è curiosa ed esce ma la presenteremo poi con calma la prossima volta faremo vedere quanto è dolce quanto è carina bene, la copertina è terminata a questo punto voltiamo la prima pagina e partiamo sembra primavera sul nostro green carpet ma non lo è potrebbe ancora nevicare giornate fredde dobbiamo adottare assolutamente la prima sfilata Erika con Amelia allora tutti ci telefonano che vogliono dolce Amelia direi dolce Amelia ci telefonano sempre persone che desiderano le femminucce abbiamo sempre troppi maschi e noi due femminucce le abbiamo fatte arrivare adesso ve le presentiamo la prima è Amelia è carinissima un anno circa è a marzo del 2021 è nata sembra un po' una cat al dog così vedendola nei suoi colori nelle sue caratteristiche è affettuosissima cerca sempre sempre la coccola lei ha una storia tristissima perché la collega che ce l'ha mandata l'ha letteralmente strappata a delle persone che la maltrattavano a livelli in vero io ho delle fotografie che non mostrerò mai a nessuno ma che credimi sono violente è stata strappata a queste persone portata via curata perché giovanissima comunque sterilizzata e adesso è pronta nonostante tutte queste cattiverie guarda che roba è dolcissima è un amore un amore di cane quindi siamo pronti per presentarvela Amelia Gina è la compagna di box di Amelia si assomigliano sì nei colori si ricordano allora Gina è un cane adulto una femmina sterilizzata una cessione di proprietà è stata in famiglia non si sa il motivo per cui non l'hanno più voluta perché più che cessione è stata abbandonata diciamo le parole giuste quindi lei cerca famiglia in casa è già vissuta con le persone è abituata a stare è molto buona molto ubbidiente affettuosissima come vedi non ci sono problemi anche una prima adozione sarebbe l'ideale Gina il linguaggio del corpo è chiarissimo no altro che guarda un po' abbraccia lei abbraccia e ti guarda negli occhi dolcemente come una fidanzata per Zorro il Bau lui non lo sa ma è un grand hotel lui ormai si è trasferito potrebbe trascorare la sua vita la sua vita è cambiata e tutto però l'adozione va a onde andrebbe a chiudere il cerchio certo certamente lui è stato tolto da una situazione di degrado ma veramente degrado proprio la parola giusta perciò è arrivato qui spaventato non si poteva avvicinare ti guardava male giro di due giorni è cambiato dal giorno alla notte quando ha visto coccole mangiare buono correre nel giardino è cambiato diciamo che anche lui è nato a luglio 2021 perciò ha sei mesi è un cane tutto da inventare tutto da educare da coccolare da baciare e fargli dimenticare assolutamente questi mesi di vita assolutamente però è sulla buona strada insomma Zera come hai promesso in apertura più femmine lei è? Bea guarda che carina tutti i colori del pastore tedesco a circa due anni è argento vivo puro vivacissima già sterilizzata e lei praticamente si è presentata in un cantiere dove c'erano delle persone che lavoravano insieme a una setterina aveva del fil di ferro attaccato al collo boh a sapere da dove è scappata e si è potuta liberare poi una volontaria le ha prese perché in cantiere davano fastidio e se le è portate a casa la setterina di razza è andata via come il pane invece lei adesso è qua che cerca casa è una meticcia quindi sai magari speriamo che abbia la stessa fortuna della setterina mi raccomando considerate la viva città di Bea assolutamente quindi gente disponibile che non la lasci sola in casa per troppe ore e poi un altro aspetto da non sottovalutare lei con gli altri cani va a simpatie magari meglio un maschio se più anziano di lei perché lei è un po' così peperina ne vogliamo dire peperina prove tecniche di fuga dal box Billy è uscito esatto ce l'abbiamo fatta finalmente lo presentiamo fuori dal box che è la sua comfort zone è un cane che non ama particolarmente essere manipolato e costretto al guinzaglio ma da noi che oramai conosce da parecchi mesi come vedi si lascia comunque coccolare e toccare per lui sarebbe ideale un'adozione con una famiglia che abbia un pezzettino di giardino a disposizione non tanto per la gestione al guinzaglio quanto perché a lui proprio non piace essere legato quindi lo costringiamo quando dobbiamo andare in clinico quando dobbiamo fare qualcosa quindi l'ideale sarebbe un pezzettino di giardino per permettergli di vivere gli anni che ancora davanti in modo sereno e noi lo ripresenteremo fino all'adozione certo assolutamente deve andare a casa un altro inverno al BAU no ne usciamo da uno il secondo no Lisa due anni due anni bella energica un pelo stupendo lucido lei aveva un proprietario che ha cambiato vita e quindi non ha più potuto occuparsi del cane questo cane è rimasto solo per mesi e mesi in un giardino e poi non li abbiamo accolto lei è proprio fisica bella tonica le piace il contatto umano molto socievole con le persone e niente anche lei ha bisogno di casa di famiglia è molto buona è caratterialmente veramente molto buona va al guinzaglio facilmente non ha problemi secondo te da affiancare quante volte cioè quante volte devo venire in rifugio per portarla a spazio a conoscerla ma un paio di volte almeno un paio di volte sì ma sì guarda lei è una che si relaziona con le persone molto bene e senza neanche lunghi tempi assolutamente con i volontari fa veramente la compagnona subito ha fatto ha dato veramente segno di grande docilità tra vivere con certe persone stare solo in canile meglio stare solo in canile di questo sono certo vale per Max e poi in canile conosci Erika trovi Giovanna trovi Zaira volontarie cioè rinasci in pratica ah sì rinasciti così poco ti ci vuole per rinascere dai in canile si sta bene oggi ripresentiamo Max oggi c'è un po' di elettricità però insomma ecco Max dobbiamo assolutamente accasarlo è un cane che ha sette anni capiamo che l'età non è a suo favore è un cane con tanto di pedigree insomma tutte quelle storie lì che tanto è arrivato in canile lo stesso purtroppo per una separazione e lui è qua che aspetta è un cane come potete vedere docile intelligente affettuoso va d'accordo con i bambini va d'accordo con i suoi simili la femmina assolutamente vuole giocare perciò venite a conoscerlo portatelo in passeggiata con i nostri volontari e poi insomma una bella adozione un bel giardino una bella famiglia dunque Zaira che il canile o rifugio non sia il capolinea per Max ma un passaggio un ponte verso la nuova famiglia questa è una piccola tappa breve tappa e poi una vita nuova risponderai tu ai nostri futuri adottanti se si farei tu l'esame si 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 gli farò gli analisi del sangue difenderai sicuramente ne sono convinto il futuro di Max nella nuova vita cerchiamo una bella famiglia assolutamente bene che non deve dare non è che lui chieda chissà che cosa assolutamente grazie grazie ad Erika e le sue colleghe che in questo momento silenti stanno lavorando e sostengono come volontarie il lavoro il canile non si potrebbe andare avanti sono splendide creature alla prossima grazie ciao Giovanna continuiamo continuiamo e la storia continua ci vediamo alla prossima me certo grazie a tutti voi per l'attenzione buona attenzione a tutti rivediamo i nostri amici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti l'automobile club Torino che patrocinia dalla nascita video adozioni ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni da sempre l'Aci Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada perché sono causa certa di incidenti ringraziamo l'Aci per la collaborazione e per il contributo alle adozioni a tutti i nostri amici